Emilio Pagani, una grandissima vittoria oggi, una vittoria che come avate da tempo la volevate donare ai vostri spettatori presenti qui stasera in Granolta. Oggi sono stato in radio dal direttore e ha portato fortuna. Abbiamo fatto una splendida partita coronata da una vittoria, abbiamo giocato molto bene. E ringrazio tutti i miei compagni che hanno fatto veramente una prestazione eccezionale. Adesso ci aspettano le ultime tre partite e poi speriamo di fare bene anche nei trio perché se giochiamo così possiamo fare molto bene. Forse è la migliore partita della stagione stasera. Sì no, sicuramente la migliore della stagione. Un pubblico bellissimo, ringraziamo tutti quelli che sono venuti e basta. Alla prossima!